Tempo di bilanci. Cosa pensano i torresi di quest'anno di amministrazione Palomba? Molte le polemiche sulla gestione dei rifiuti e sul contenimento del Covid-19. Secondo me il sindaco fa pochissimo, anzi penso che non abbia fatto proprio nulla. Non so che potere abbia essendo sindaco ma penso che non abbia nessun potere perché non fa nulla in merito alla città. Quindi ritengo che la società che gestisce i rifiuti urbani serve a poco e serve a poco quello che il sindaco fa insieme alla società dei rifiuti urbani. Quindi direi che dovrebbero andare via tutti e due. Facciamo un bilancio sull'amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba. Che cosa ne pensa? Che anno è stato secondo lei? Io credo che da quando la carica è a questo sindaco non ci sono stati grossi miglioramenti, anzi forse proprio nulli. Basta pensare alla questione spazzatura e a tutto il resto. Lo vediamo, è palese, è palpabile. Io abito al centro e quindi nonostante abito in una strada principale vedo a pochi metri da casa mia lo scempio in pratica. Cumuli di spazzatura nonostante sia una strada appunto di quelle principali. Questo è l'apice proprio del fallimento. Se poi vogliamo parlare anche come è stata trattata questa pandemia, sinceramente non sono per niente contenta.